Vede, è uno simoro, nel senso che se è la voce ufficiale del Movimento 5 Stelle all'interno del blog di Peppe Grillo dovrebbero essere presenti molto spesso dei temi che i parlamentari trattano. E' chiaro che essendo un blog è abbastanza ampio in termini di temi. Ho trovato strano anch'io comunque riferimento ieri al diritto Matteotti dopo la tornata elettorale.